Ok ragazzi, in questo video parliamo dei 10 misteri più misteriosi nella guerra in Ucraina e in più lo facciamo male. Quindi a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Al decimo posto della classifica troviamo il container misterioso. Durante la guerra le forze armate ucraine hanno recuperato questo strano oggetto che all'apparenza è tremendamente simile per forme e dimensioni ai container che usiamo per il trasporto di merci sulle navi. A prima vista questo oggetto poteva essere scambiato per una baracca di fortuna utilizzata dai soliti soldati russi scappati da casa che non sono in grado di fare la raccolta differenziata e lasciano tutti i loro rifiuti nei boschi. Ma in realtà questo oggetto per noi nerdacci della Nato ma anche per i soldati russi ha un valore praticamente inestimabile perché in realtà al suo interno contiene attrezzature avanzatissime per la guerra elettronica. Infatti sotto questo aspetto sciatto, adonimo, trascurato si cela l'unità bella donna o nightshade. Questo giocattolo non si limita a disturbare i radar avversari ma è realmente e letteralmente in grado di friggerne la circuteria in grado di cortocircuitare e rendere quindi perfettamente inutile un satellite spia nell'orbita bassa per intenderci. In teoria, se tu attivi quel laggeggio, la tua privacy è garantita nel raggio di 300 km di distanza. Normalmente quest'unità dovrebbe trovarsi sul semirimorchio di un Kamats ed è questo dato a costituire il vero e proprio mistero irrisolto. Perché mai i soldati russi hanno abbandonato un'unità che da sola vale decine se non centinaia di milioni di dollari? La mia teoria personale è che i soldati russi erano dei completi incompetenti e quindi hanno scaricato quell'oggetto, non comprendendone né il funzionamento né il valore, per fare spazio sul Kamats alle lavatrici che hanno sottratto dalle case ucraine. Dovendosi ritirare, i soldati hanno preferito accontentare le mogli piuttosto che portarsi dietro un hardware pesantissimo che ha valore soltanto per l'esercito. Poi, naturalmente, esistono anche altre spiegazioni alternative. Ipoteticamente l'equipaggio di quell'unità potrebbe essere stato catturato e forse eliminato dagli ucraini. In alternativa, l'equipaggio di quell'unità ha dovuto abbandonare in fretta la postazione e magari, essendoci tanta gente, il comando ha ordinato di evacuare le persone facendole salire sul semirimorchio. Non è il massimo dell'eleganza, ma in una situazione d'emergenza, con il nemico e l'artiglieria che si avvicinano, fai di necessità virtù. Salvi le persone, eventualmente anche le lavatrici, e lasci lì l'hardware da guerra. D'altronde è un equipaggiamento da guerra e sapeva a quali rischi andava incontro. Le lavatrici sono invece un equipaggiamento civile e le devi salvare. In ogni caso, è probabile che questo bel pezzo di equipaggiamento sia stato portato prima in Polonia o in Romania e poi caricato su un aeroplano della Nato con direzione Stati Uniti d'America per l'analisi ed eventualmente il retroengineering. Al nono posto troviamo il carroarmato T-80UM2. Questo carroarmato, ricercatissimo dai giocatori di War Thunder, non è mai entrato in produzione nel mondo reale, ma gli ucraini sono riusciti comunque a venire in possesso di un prototipo. Schierato comunque dai russi in prima linea per misteriosi ed imperscrutabili motivi. In teoria, questo avrebbe dovuto essere il carroarmato di terza generazione in grado di dare la polvere e seppellire sotto la polvere i carri armati occidentali. Sempre in teoria, questo carro avrebbe dovuto essere equipaggiato con un cannone da 135 mm in grado di parcheggiare i suoi proiettiloni a oltre 10 km di distanza. La peculiarità di questo carro avrebbe dovuto essere quella di poter sparare anche tantissimi missili anticarro per fermare gli avversari. Ma il fatto che questo carro sia stato ridotto a rottame esattamente come avveniva a tutti gli altri Z-72 lascia intendere che l'hype verso questo prodotto russo era chiaramente eccessivo e non giustificato. E d'altronde, se questo carro non è mai stato prodotto in serie, qualche motivo ci sarà. Resta comunque un pezzo unico che qualunque collezionista potrebbe voler recuperare per inserirlo nella sua collezione. E non fatevi ingannare dall'aspetto, secondo me, con un pochino di carta vetra, due chili di plastilina e un paio di mani di vernice torna come nuovo. E magari qualche famoso pacifista figlio di Putin ve lo pagherebbe a peso d'oro pur di averlo nella sua collezione privata. All'ottavo posto c'è il missile misterioso. In Ucraina, infatti, i militari, ma anche i civili, hanno iniziato a trovare conficcati nel terreno dei missili con questa forma classica e soprattutto questo colore arancione molto vivo in coda. E tutti gli esemplari hanno una caratteristica decisamente insolita e controintuitiva per dei missili. Non esplodono. Si limitano, infatti, a conficcarsi nel terreno e questo ha creato un minimo di dibattito fra gli esperti. Secondo alcuni, si tratterebbe di missili specializzati nel rilascio di cluster bomb, cioè di bombe più piccole che esplodono all'impatto con il terreno. Secondo altri, invece, questi missili sarebbero semplicemente delle esche, ovvero dei missili di supporto ad altri missili la cui funzione è quella di attirare il fuoco nemico e mettendo all'occorrenza anche farsi segnali per confondere l'intelligence avversaria e o attirare i missili verso di sé invece che contro il bersaglio principale. Secondo gli analisti più anziani, questo tipo di missile esisteva già durante la Guerra Fredda, Ai tempi dell'Unione Sovietica il suo nome in codice era equivalente a quello trovato su un'etichetta, ovvero 9B 899, chiamare ore pasti. E naturalmente, come potete notare, negli ultimi 30 anni la Russia di Putin ha notevolmente migliorato il concetto originario. Durante la Guerra Fredda, l'Unione Sovietica colorava questi missili di marrone latrina, mentre adesso la coda è di un brillante arancione nastro di San Giorgio. Un cambiamento epocale. Se non conoscevate come me questi missili, ciò è dovuto al fatto che la Russia non li ha mai usati prima, ma soprattutto non li ha mai venduti all'estero. Sta a voi decidere se questi missili non sono stati venduti per mantenere il segreto e un possibile vantaggio tattico in una guerra diretta come questa, o se viceversa nessuno li ha mai voluti acquistare perché costosi e per l'appunto inutili. Al settimo posto troviamo un oggetto volante non identificato che ha bypassato tutti i sistemi antiaerei della Nato per finire a schiantarsi a Zagabria, la capitale della Croazia. L'oggetto in questione ha fatto un bel botto, un bel po' di rumore e un cratere di circa 3 metri di diametro. Rimettendo insieme i rottami come se si trattasse di ricostruire un bellissimo puzzle 3D, è emerso che questo oggetto misterioso era un Tool 141. E a questo punto qualcuno potrebbe anche domandare ma avvocato che roba è un Tool 141? Il Tool 141 è questo aggeggio qui che sembra uscito da un film di fantascienza anni 50. Sostanzialmente è un drone antelitteram. E cioè un missile al quale sostituivi la testata esplosiva con quello che veniva definito molto audacemente come pacco sensori. In realtà di sensori c'era ben poco. C'era una cinepresa, c'era una macchina fotografica che scattava immagini in automatico ogni tot secondi o probabilmente ogni tot minuti e se proprio ti andava di lusso qualcosa che assomigliava a un radar per registrare le posizioni dei nemici a distanza. Un aggeggio come questo o forse proprio quel povero aggeggio il primo volo l'ha fatto nel 1974. Ha una tecnologia che ha compiuto quasi 50 anni. Ok, e il mistero qual è? In realtà di misteri qui ce ne sono due. In primo luogo, com'è possibile che un drone di 48 anni riesce a bypassare il sistema di difesa della Nato in maniera così sportiva e parcheggiarsi in un parco di Zagabria? E il secondo mistero è chi l'ha lanciato e perché? Sono stati gli ucraini o i russi? Con il senno di poi io propenderei per sono stati gli ucraini. Droni di questo tipo sono infatti stati sfruttati anche per colpire la base di Engels in Russia. Può darsi che questo sia un test ma riuscito o ben riuscito visto che per l'appunto il drone ha bypassato le difese della Nato. Ma è anche possibile che questo drone sia stato lanciato per errore dai russi e che gli ucraini abbiano avuto un'intuizione del tipo Ehi, questo drone lo abbiamo anche noi e noi siamo molto più bravi a modificare le cose vecchie rispetto ai russi. Perché non lo riadattiamo per colpire quei grandi, grossi, brutti, cattivi figli di Putin e cugini di Kadirov? Se poi siete interessati alle leggende metropolitane le quali peraltro potrebbero avere anche un fondo di verità pare che l'origine del drone sia realmente russa e che sostanzialmente chiunque abbia impostato le coordinate del GPS abbia fatto un errore madornale. Secondo alcune fonti, infatti, il missile avrebbe dovuto colpire una città ucraina che si chiamava Naves, Naves o qualcosa del genere ma per errore l'operatore avrebbe inserito le coordinate relative a un'altra città dal nome simile che però si trovava in Croazia. E così il drone, invece di dirigersi verso nord come avrebbe dovuto ha deviato verso ovest fino ad arrivare in territorio nato dopo aver attraversato altre due nazioni dell'alleanza atlantica. E al sesto posto troviamo il mistero dello Zala Kubla il quale sostanzialmente è un drone monouso a cui i russi hanno dato un nome Klingon per renderlo molto più bippo. Di suo, infatti, sembra una versione ridotta dello Shaed 136. La forma e l'aerodinamica sono le stesse il sistema di propulsione e aelica in entrambi i modelli con la differenza che il Kubla ha un propulsore elettrico mentre lo Shaed ha un motore termico quello probabilmente di una vecchia Vespa degli anni 70. Similmente il Kubla è lungo 1,20 m e largo circa 95 cm ali comprese mentre lo Shaed è un filino più grandicello se non sbaglio la sua apertura alare è quasi di 3 metri. Il drone iraniano trasporta poi 40 kg di esplosivo o perlomeno possono essere caricati fino a 40 kg di esplosivo mentre invece il Kubla russo riesce a malapena a recapitare 4 kg di esplosivo quando si impegna e gli gira bene. Ebbene sì perché il Kubla o Kub per gli amici a differenza dello Shaed 136 un cervello elettronico ce l'ha ricorderete infatti che lo Shaed 136 non è manovrabile preimposti la rotta, preimposti il punto di collisione e lo Shaed decolla e va verso il bersaglio come un missile stupido qualsiasi viceversa il Kub come lo chiamano gli amici un'intelligenza artificiale ce l'ha e la sfrutta per raggiungere il bersaglio designato se questo bersaglio designato per qualsiasi motivo sparisce dal radar, viene eliminato in altro modo non viene più riconosciuto dal sistema ottico il drone decide autonomamente di colpire un secondo bersaglio quindi ragazzi se mai un giorno vi trovaste puntati da un aggeggio del genere prendete nota circa il fatto che mettersi a correre non è particolarmente utile dovete cercare di nascondervi ai sensori del drone e dovete anche augurarvi che il drone sia in modalità pilota automatico e non condotto in manualmente da un operatore l'operatore può infatti decidere dove il drone va a colpire e a quale altezza deve esplodere dopodiché se per qualche misterioso motivo il bersaglio non è reperibile la batteria si scarica troppo velocemente non si trova qualcos'altro o qualcun altro contro cui schiantarlo il drone può tranquillamente plamanare, atterrare e trasformarsi in una costosissima mina e qual è il mistero direte voi apparentemente questo drone in Ucraina non ha mai ucciso nessuno per quanto ne sappiamo l'unico esemplare è stato abbattuto il 12 marzo 2022 dalla contraerea ucraina complimenti per aver centrato un modellino grande poco più di un metro e da allora non se ne sono più visti altri sappiamo tuttavia che questo drone è stato concepito per le operazioni nere e per eliminare personalità di alto profilo come facciamo a saperlo? è molto semplice la Kalashnikov, nome che dovrebbe dirvi qualcosa società che ha sviluppato il drone l'ha testato in Siria fra il 2015 e il 2016 e l'ha fatto solo ed esclusivamente contro bersagli umani i quali peraltro non avevano firmato neppure un contratto per svolgere attività da tester al quinto posto troviamo il missile Kinzhal il missile di cui Putin va più fiero ma che è stato utilizzato una sola volta la caratteristica principale di questo missile secondo la propaganda russa è quella di poter raggiungere la considerevole velocità di Mach 10 non è quindi come molti giornalisti dicono un missile supersonico ma è bensì un missile ipersonico perché per l'appunto supera abbondantemente la velocità di Mach 5 il suo impiego dovrebbe essere apparentemente limitato da due o tre fattori in primo luogo può essere lanciato soltanto da un MiG-31 e per qualche strana ragione solo 50 di questi velivoli possono essere adattati a tal luogo in secondo luogo per essere costruito richiede chiaramente dei componenti di qualità che in Russia in questo momento scarseggiano per via delle note sanzioni economiche e infine è costosissimo per intenderci in dieci mesi di guerra i russi lo avrebbero utilizzato una sola volta lanciandone due esemplari contro quello che secondo il comando russo era un deposito di munizioni nella città ucraina di Deliatin risulta poi un secondo lancio sulla città di Stavropol ma quello non conta come dite Stavropol è una città russa? per l'appunto vi ho detto che non conta pare che un missile non si sia attivato normalmente questi missili possono essere lanciati anche dal territorio russo perché in teoria secondo la propaganda russa hanno un raggio d'azione di 2000 km quindi i MiG-31 non devono in teoria rischiare neanche più di tanto decollano da una base russa prima di raggiungere il confine lanciano i missili e rientrano ecco in questo caso il missile non si è attivato è caduto a piombo e ha colpito letteralmente un quartiere residenziale salvo errore di memoria sono rimasti feriti almeno sei pompieri perché il missile non è esploso subito ed è detonato soltanto in un secondo tempo quando chiaramente non avrebbe dovuto e se mi chiedete per quale motivo questo missile dovrebbe essere così misterioso beh i fattori sono chiaramente due in primo luogo sarebbe uno dei primi missili personici in grado di effettuare manovre evasive a una velocità così elevata manovre evasive che non abbiamo visto intendo dire per ora non abbiamo visto neanche i missili se dobbiamo essere precisi figurarsi le manovre evasive e in secondo luogo naturalmente il fatto che ci sia questa superarma ma che in dieci mesi sia stata utilizzata forse una volta e una volta non sia andato bene il test lascia alquanto a desiderare sì è un mistero ma magari la soluzione è molto semplice questo missile è largamente inaffidabile quindi va bene per fare un po' di propaganda ma nulla più in quinta posizione troviamo il missile Zircon lo Zircon è apparentemente un parente del Kinjal con la differenza che invece di essere un missile aviotrasportato ipersonico è un missile ipersonico lanciato da una nave non risulta che sia stato ancora utilizzato sul campo ma finalmente Putin è riuscito ad avere una singola fregata equipaggiata con questo armamento qui e Zio Vlad come fanno tutte le persone quando hanno l'automobile o la barchetta nuova la portano a far vedere a tutti i vicini motivo per cui la sta trasferendo dal suo porto nel mar artico giù di lì allo stretto di Gibilterra per poi farla sfilare nel Mediterraneo e probabilmente parcheggiarla vicino al suo bar siriano preferito che poi è anche l'unico ed ultimo locale dove lo fanno ancora entrare visto che la settimana scorsa ha aggredito un altro avventore un certo Zelensky e dato origine a una mega rissa in ogni caso Medvevev il più o meno vice di Putin vede questo Zircon come l'arma definitiva qualche giorno fa vaneggiava su Twitter di portare questa fregata a 100 miglia nautiche di distanza da Washington e poi parcheggiare uno di questi missili vicino alla statua di Ronald Reagan ah no scusate di Lincoln comunque sia pare che il 21 dicembre 2021 i russi siano riusciti a lanciare con successo una salva di questi missili e quindi nel corso dell'ultimo anno hanno equipaggiato la fregata Ammiraglio Gorbovov o qualcosa del genere con questi aggeggi qui per quale motivo i missili ipersonici sono nella lista? lo sono perché in questo caso in teoria oltre a raggiungere velocità Mach 10 sono in grado di raggiungere bersaglio effettuando manovre evasive la parte relativa alle manovre evasive compiute tramite Scrum Jet è relativamente nuova e i russi rivendicano di essere gli unici in grado di gestire questo tipo di tecnologia che di fatto è inutile perché nel momento in cui Zio Vlad ti parcheggia un missile ipersonico da qualche parte tu gli rispondi a tono senza contare il fatto che per poter arrecare danni questi missili devono essere lanciati e sono comunque vulnerabili nella fase di lancio mentre salgono nell'atmosfera oltre a ciò se non sono vulnerabili i missili lo sono sicuramente le fregate che li lanciano in quarta posizione troviamo la sfera del mistero copie di questo tutt'altro che mistico oggetto sono arrivate sulle spiagge del Mar Nero il maggior numero in Ucraina qualcuna invece anche in Turchia e la gente si domanda che roba è? di preciso nessun analista da divano lo sa secondo alcuni sarebbero parti di mine secondo altri queste sfere verrebbero lanciate insieme ai missili dai sottomarini russi e secondo altri ancora queste sfere sarebbero parti integranti di uno o più modelli di missile e naturalmente nessuna di queste tre risposte è soddisfacente in primo luogo se fosse una parte di missile non si capisce per quale motivo questa specifica parte arriva a terra e il resto del missile no in secondo luogo i boccaporti dei missili soprattutto quelli lanciati da sott'acqua si aprono e si chiudono da soli senza necessità di lanciare dei proiettili in metallo contro la struttura e naturalmente se si trattasse di mine al loro interno ci sarebbe dell'esplosivo che senso ha far arrivare solo alcuni pezzi della mina e non la mina completa l'unica cosa che si può dire con certezza è che questi aggeggi non restano per molto sotto al mare perché non presentano il minimo segno di corrosione o meglio presentano segni di corrosione ma minimi al terzo posto troviamo l'incubo di Elon Musk il sistema noodle satellite killer come lo chiamerebbero gli americani con una pronuncia all'italiana che non capiscono dove vanno gli accenti come ripeto il noodle non è un'arma è un sistema di armi in teoria dovrebbe proteggere la zona di Mosca da un attacco termonucleare ma già che ci siamo e siamo nel ventunesimo secolo perché limitarsi alla difesa da parte degli ordini nucleari quando puoi sollazzarti abbattendo i satelliti altrui anche in orbita bassa? ma soprattutto perché devi difendere soltanto la regione di Mosca? ah è perché zio Vlad lì ci costudisce il servizio da piatti buono? la parte che ci interessa quella antisatellite è stata testata con successo nel novembre del 2021 quando Mosca ha lanciato un missile contro un suo vecchio satellite facendolo esplodere in mille e più frammenti tra le imprecazioni dell'intera comunità aereospaziale e perfino degli astronauti russi per il semplice motivo che quando fai esplodere qualcosa nello spazio i frammenti di questo qualcosa acquisiscono una velocità pari almeno a quella dei proiettili e iniziano a orbitare come se non ci fosse un domani costituendo un serissimo pericolo per gli altri satelliti e per le strutture artificiali abitate dagli uomini come per esempio la stazione spaziale internazionale dove all'epoca peraltro c'erano anche almeno due cosmonauti russi a bordo il vero mistero non è costituito dalla tecnologia impiegata che ormai è alla portata di tutti ma è costituito dalla domanda ma perché i militari russi sono così poco lungimiranti e bipponi? in seconda posizione abbiamo i siluri Poseidon e il sottomarino Belgorod è di oggi infatti la notizia che il Belgorod è riuscito a lanciare un siluro di passa pari a quella del Poseidon senza problemi ora voi direte e allora che cos'ha di speciale questo Poseidon? ah nulla è piuttosto pesante perché ha una testata termonucleare l'idea dei russi è quella di farlo esplodere sott'acqua e causare uno tsunami radioattivo alto 500 metri in grado di affondare l'intera Gran Bretagna con un singolo colpo naturalmente gli oceani si tingerebbero di rosso ma soprattutto diventerebbero radioattivi il che potrebbe complicare non poco la vita visto che anche in Russia si mangia il pesce ma anche perché l'acqua degli oceani ha la pessima abitudine di evaporare e di ricadere poi da qualche altra parte del pianeta Russia compresa sotto forma di pioggia e anche in questo caso il mistero è costituito dalla domanda ma perché vuoi sviluppare un'arma simile? se fosse stata utile lo avrebbe già fatto qualcun altro il multiverso non aspetta che tu ti ponga alla sua guida non sei in condizioni di farlo che cosa te ne fai di un giocattolo del genere? peraltro sì magari con un colpo riesci anche a spazzare via la Gran Bretagna ma poi i sommergibili inglesi emergono e ti lanciano tante 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 testate nucleari direttamente sulla tua dacia delle vacanze insomma soltanto il professor Orsini ha paura delle testate nucleari tutti gli altri sanno perfettamente che nessuno può usarle e detto fra parentesi se fosse stato conveniente usarle lo avrebbero già fatto 50 anni fa e al primo posto troviamo l'arma di luce la quale per l'appunto non è nient'altro che una colonna di luce che sembra arrivare fino al cielo secondo i soliti ben informati che sono cugini di qualcuno questa colonna di luce sarebbe un'applicazione pratica del Peresvet un'arma laser definitiva uscita da qualche cartone animato degli anni 80 in grado di neutralizzare i satelliti in orbita bassa distruggere aeroplani e fare tutte le cose che un cattivo di 007 ha sempre sognato e vi dirò di più siccome quest'arma ha un nome impronunciabile i russi ne hanno sviluppato anche una versione ridotta chiamata Zadira questo tipo di arma sarebbe comodamente trasportabile con un Kamaz e potrebbe distruggere tutto ciò che si trova a una distanza non superiore a 5 km il mistero consiste appunto nel fatto che queste armi nessuno le ha mai viste operare la stessa luce di Belgorod potrebbe essere semplicemente un effetto ottico naturale e visto che è di sicuro e certo impatto visivo merita il primo posto nella classifica e voi che cosa ne pensate qual è il vostro mistero preferito in questa lista ne avete altri che volete condividere con me per fare un altro video a tema come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto se poi vi piaccio i miei video ma per qualche strana e inspiegabile ragione non vi siete iscritti al canale non avete messo i like non condividete il materiale non avete neanche attivato la campanella fatelo oppure ancora un giorno molto lontano potreste scoprire che quella colonna di luce è semplicemente il Putin segnale con cui gli orsetti del cuore convocano il loro supremo leader come sempre grazie di tutto per tutto e a presto